Il vicepreside e docente dell'Istituto Comprensivo de Nicola Sasso Giuseppe Romano scrive al Ministero della Salute la sua richiesta di far rientrare quella dei docenti tra le prime categorie a cui destinare il vaccino e invita a firmare la petizione da lui promossa affinché venga accolta la richiesta. Ho fatto su change.org una richiesta per aprire una petizione rivolta a tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado perché sono convinto che la categoria dei docenti debba essere considerata in maniera prioritaria subito dopo quella dei sanitari in quanto noi siamo esposti a grossi numeri tra alunni di tutti i docenti. Quindi anche forse in maniera prioritaria rispetto ad altre categorie anche magari gli ultraottantenni che stanno a casa fondamentalmente noi docenti abbiamo la necessità di avere questo riconoscimento. Quindi è importante che tutti possano firmare questa petizione. Vicepreside qual è stata la motivazione che vi ha spinto a scrivere al Ministero della Salute? Una delle motivazioni più importanti oltre a quello di esporre la nostra categoria è stata anche quella del nostro carissimo collega Francesco Caterino che ha perso la vita per il covid qui nel nostro istituto. È stata una delle prime vittime della nostra categoria del nostro istituto per cui anche il ricordo della sua persona, della famiglia, nel rispetto della sua professionalità mi sono sentito spinto anche da questo pensiero. Quindi a maggior ragione chiedo veramente a tutti di sottoscrivere questa petizione per dare voce anche a chi purtroppo la voce l'ha persa per via del covid. Grazie